Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, secondo episodio di Dual Universe. Ci eravamo lasciati che stavamo per affrontare il tutorial sulle costruzioni. Intanto ho notato, dato che ero preso a leggere in basso a sinistra e a tradurre il tutorial, l'ho visto che in alto a destra c'è una mappa con un sacco di navi costruite sembrerebbe e anche l'altitudine, abbiamo tipo il meteo, abbiamo la velocità a cui stiamo andando e la forza di gravità, che è un G, quindi pari alla terra, va bene. Allora, adesso andiamo al Waypoint e vediamo che cosa succede in questo secondo gameplay. Questa bizzarra costruzione di fronte a te è chiamata il costrutto. È un mix di voxel dispiegati usati come una scultura. Il primo elemento che tu dispieghi quando crei una costruzione è il core, la unità core, che è quella lì, ok. Questa crea una zona di costruzione entro la quale è permesso costruire. Il core unit è di differenti dimensioni, è statico per le costruzioni di terra, insomma gli edifici, o il dinamico per le navi, presumo. Quando hai creato la tua building zone puoi iniziare a dispiegare materiali come voxel on a comb, che non so cosa voglia dire, o voxel in breve. Hai una grande palette di tool che ti aiutano a scolpire assolutamente come tu preferisci e dare più complessità al tuo edificio. Finalmente puoi aggiungere elementi alla tua costruzione nella forma di, diciamo, motori, porte, luci, serbatoi di carburante o qualsiasi altro delle centinaia disponibili. Gli elementi provvedono a dare funzionalità ai tuoi edifici. Costruendo tante cose, insomma, c'è il tutorial dedicato. Ci sono belle costruzioni che tu puoi costruire, non solo edifici statici, puoi anche costruire navi atmosferiche, figata, mamma mia, va bene. No, è veramente troppo, troppo complesso sto gioco, bisogna starci dietro veramente tantissimo. Ok, andiamo qua adesso. Questo è un Surface Speeder, quindi una nave di superficie, un Overcraft in pratica. Una nave molto base, insomma, a livello, un veicolo atmosferico, che è conveniente ed economico da costruire e ti permette di muoverti sulla superficie del pianeta. Ti sarà regalata alla fine di questo tutorial. Tutto questo speeder è funzionale e giocano un ruolo nel farti lavorare. Ah, ok. C'è l'Over Engine, il motore, questo qua che lampeggia adesso è il Tank Fuel, quelli ci sono, sono tipo i giroscopi, quelli che stanno lampeggiando ora. Faccio fatica. Hai bisogno anche di freni, ok, quelli lì sono i freni che ti fanno andare più piano. E finalmente hai bisogno di pilotare, quindi c'è il Piloting Set che attiva la nave, dove la controllerai, mamma mia, mi scemmia sto gioco. Ecco, devo solo capire per quanto tempo posso giocarci, poi mi faccio l'abbonamento. Ah, ok, tutto è orchestrato da il Lua Script, che è generato automaticamente per te, ma puoi anche modificarlo cliccando col destro sul Piloting Set. Ah, si può anche programmare, questo me l'avranno detto, quindi bisogna conoscere. Non dovrebbe essere, chiedo se Uncaster conferma, il Lua Script non dovrebbe essere un linguaggio troppo complicato, però, insomma, un minimo di essere smart serve, insomma. Nota che pilotare nell'atmosfera e in pianeta, e oltre che nello spazio è diverso, e ci sono diversi tipi di motori e design. La gravità potrebbe influire su un carico pesante, e un'alta gravità potrebbe influire lo stesso. Pilotare un'arte in Dual Universe, vabbè, puoi conoscere di più sul pilotaggio, nel tutorial dedicato al pilotaggio, nel Piloting Institute. Pilotare non è solo navigare su quella sua nave, ma anche combattimento, quindi dovremmo combattere. Ho evidenziato le armi, uno small fighter, dove cacchio è? Ah, ok, dobbiamo visitare il Military Institute, per esempio. Ora, andiamo all'ultima stazione e impariamo qualcosa sulle organizzazioni. No, mi aveva fatto vedere le armi, ma non le avevo viste, probabilmente magari voi le avete viste, si lampeggiavano. Insomma, si pilota, ah, lì sopra forse. Sì, 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 lì sopra. Perché poi, ovviamente, qua ci sta parlando di pilotare, di viaggiare sulle superfici, di scavare, ma ovviamente bisogna anche combattere, salvere. Buongiorno. Andiamo all'ultimo tutorial, le organizzazioni. Poi dovremmo andare sulla Luna, presumo, almeno, magari ci manda lì. Insomma, questo è. Le organizzazioni sono una parte fondamentale della vita sociale come noveano. Ci sono gruppi a cui puoi riunirti, tipo nazioni, corporazioni, alleanze, e ogni gruppo di pirata, anche i gruppi di pirati. Dai un'occhiata velocemente all'interfaccia delle organizzazioni premendo F3. Come ci possiamo aspettare, non sei parte di nessuna organizzazione. Clicca sul Search button. Puoi cercare la lista, ogni sorta di, ok. Numero di membri. Per, ok. Ok, cliccando su una si aprono le specifiche. Posso fare l'apply, l'application, e quindi candidarmi. Ah, posso anche descrivere una piccola presentazione. Ma è basato sul sociale, questo gioco. Puoi anche creare, ovviamente, anche la tua stessa organizzazione dal nulla, insomma. Per esempio, puoi organizzare i membri, i ruoli, i voti, i diritti. Va bene. È molto complesso. Molto complesso, anche questa parte qui. Eccellente. Hai esplorato tutte le basi. Ora, muoviti al prossimo step e parliamo dei talenti. Ok. Andiamo a vedere i talenti. Spero che si veda tutto bene. Oh, bello. Statue un po' meno belle. Infatti è un po' così. Però sono scolpite con i voxel queste. Figo, mamma mia. Allora, vediamo i talenti. Così, pian piano, completiamo questa introduzione a Dual Universe. Perché poi, ovviamente, se il gioco vi piace, avrete le basi per poter decidere se acquistare o meno il tempo di gioco. I talenti definiscono le tue abilità. Sono aggruppate in categorie che sono disposte intorno al tuo ritratto. Ok. C'è il Mining e l'Inventory. Vediamo. Guarda alla sinistra. Ci sono le categorie che corrispondono a questo gruppo. Ogni categoria ha diversi talenti. Clicca su Inventory Manager. Aha. Sì, ho cliccato. Ok. Ci fa cliccare su Nanopack Upgrades. C'è Container Proficiency. C'è un sacco. Nanopack Upgrades. Upgrades. Ehm... Ok. Nanopack Upgrades. Ok. Ci ho cliccato. Ah, ok. Praticamente possiamo investire punti in... nel trasportare volume più alto di roba? Sì. Infatti. Nanopack Upgrades. Possiamo potenziarlo. Invest Point. Per requisiti nessuno. Possiamo investire sempre più punti. Invest Point. Confermo. 242 punti. Boh. L'ho fatto ma... In realtà... Sì. Si possono investire più punti. Sì. Però in realtà... Non... Non mi sta dando completato. Quindi... Devo capire... Perché? Allora... Vediamo un attimo anche qua. I miner. Mining Ranger. Advanced Mining. Ce ne sono veramente un sacco. Poi basterebbe cliccare qui. E poi andare lì. Adesso faccio Inventory Manager. Inventory Manager. Posso potenziarlo. E non posso più farlo. Nanopap... Eh. L'ho cliccato ma... In realtà... Mining e Inventory. C'è anche Piloting. Quindi tutta la parte del supporto. Non lo so. Ho trovato finalmente un bug forse. Non mi è permesso spegnere questo schermo. Poi immagino... Se sia fattibile anche... Il cliccare sugli schermi. Beh questo qua è fatto. Comunque giusto per far vedere... Che si possono creare sculture anche con i voxel. Un casino scolpirli ma va bene. Allora... Allora mi dice... Clicca... Inventory Manager. Clicca su Nanopap... Ok. Nanopap upgrades. Ah praticamente... Mi dà... Dei punti da investire. Ma qua mi dà... Un tempo... Per far salire questa abilità qua. Nanopap... Nanopap upgrades. Boh. Proviamo a aspettare. Allora in pratica quello che io ho fatto ora... Ho scoperto leggendo anche la chat che scrive... Che scrivono le varie persone sotto. Che è abbastanza buggato. Quindi sono andato a... Premere il tasto F2. Potenziandolo qui appunto abbiamo... Ottenuto il primo livello di Nanopap... Nanopap upgrades. Ora possiamo potenziarlo a livello 2. Investendo i punti o mettendoci per 30 minuti in coda... Due ore insomma. È un po' allaiva online la crescita di questo aspetto qui. Comunque ho deciso di annullare il tutorial. E annullando il tutorial ci viene detto che... Ci vengono indicati quelli che sono i... Dispenser che durante il tutorial ci davano degli oggetti. Quindi ci danno le indicazioni con i vari waypoint... Di dove andare a prendere tutti questi dispenser che ci venivano dati. Quindi io adesso torno su... E vediamo dove sono i vari dispenser. E come... E dove trovarli. Credo fosse di sopra. Ancora di più. Sì, l'ho annullato. Mi è dispiaciuto. Però si era buggato. Quindi... Gioco... Ah, è di là. Mannaggia. Ah, ma sono tutti quei dispenser là che... Vabbè. Che avevamo visto prima. Vabbè. Andiamo a prenderli. Almeno abbiamo un po' tutto. E... E... Niente. Allora. Si scende da qui. E' tutto abbastanza legnosetto ancora. Però... Però non mi dispiace. Il gioco non mi dispiace. Ovviamente andrà approfondito tantissimo. Quindi... Eccolo qua. Terzo dispenser. E... Segui il waypoint verde. Ok, eccolo lì. Ah, ok. Ci sta facendo rifare tutta questa parte qui. Dove siamo andati a prendere gli oggetti. Va bene. Il quarto dispenser, che era il tutorial che stiamo facendo adesso, probabilmente, ci verrà dato. Perché sto leggendo in chat che comunque, di gente che gioca ce n'è parecchia. E... Ah, tanti hanno problemi con lo speeder. Adesso, dove cavolo è il... Il quarto. Cacchio è questo posto. Ah, di sotto. Si scende di là. Interessante. Eccoli qua, gli speeder. Ah, qua ci darà lo speeder, allora. Speeder blueprint. Blueprint, ok. Ok. L'ultimo dispenser che è questo, che è lo speeder racer parts. Ok. Ok. Dice di usare il codex con l'F1. O... Puntare nel 3D World e premere il tasto H. Ok, si può uscire sul pianeta adesso? Sì, figo. E' bellissimo lo speeder. Ok, in pratica adesso ci viene data la possibilità di andare a prenderci lo speeder, scusate, lo shuttle per la luna. Allora, praticamente qua sta... Diamo un'occhiata. Queste sono, penso, le uniche strutture che siano state costruite dagli sviluppatori, perché tutto poi sarà in mano ai giocatori. E la costruzione è quella di Empyreon o Space Engineer. Potrebbe anche essere un mix tra i due. Ma fighissimo tutto questo. Storage and Deposits. Ah, scritto questo tizio qui. Action Forbidden. Sì, allora, qua è inutile che io vi dica che ci sia... Cioè, che sia importantissimo avere della gente o amici con cui giocarci. Di sotto non so cosa stia succedendo, ma non sembra una bella cosa. Allora, niente, andiamo a prenderci questo speeder. Questo speeder, scusate, abbiamo il blueprint, abbiamo i materiali per farlo speeder. Bisognerà studiare un attimino dove farlo, però va bene. Lo shuttle ti trasporterà... Ok. Tra Aliot e la Sanctuary Moon. Premi il bottone. O sediti sullo shuttle per... Ma io voglio sedermi sullo shuttle, no? Non posso? Cioè, volevo vedere... Bella la piattaforma. Salve, buongiorno. Take a seat, prepare for lift. Ok. F. Figo. Fighissimo, ragazzi. Caricamento così, vabbè, poi presumo si possa anche viaggiare anche da soli, però. Ah, sì, programming board, puoi programmare con il Lua i tuoi costrutti, i tuoi costrutti e le tue costruzioni. Ah, ok, si può fare. Spero ci siano scaricabili gli script. No, molto belle le scene animate, devo dire, però. Poi, vabbè, il fatto che giri un po' così legnosetto, un po' così... Non ha eccessivi fotogrammi, è dovuto al fatto che probabilmente non è ottimizzato. Ok, benvenuto sul gemello. Ora, il prossimo step è localizzare un free tile su F4. Per potenziare i premi V. Aha. Aha. Ah. Ok, allora, aspettate che scendiamo sotto. Vediamo se non muoio. Muoio. Ok, apri con la I. Prendiamo lo speeder, vediamo dov'è. Lo speeder blueprint. Vediamo un po'. Blu e... No, speeder. Nova... Ok, doppio clic. Lo piazziamo qui. Allora, scusate che leggo perché... Ehm... Ok. Lo chiamiamo... L'ho dovuto chiamarmi Indie Gameplay Italia perché ho dovuto fare due account, perché non capivo come attivare il tempo di gioco. Indie Gameplay Ita Speeder Deploy. Congratulations. You have successfully deployed your speeder blueprint. Now, the next step is to put fuel in the fuel tank. For this, simply open your inventory by pressing the inventory key. Ok. Ma, eh... Sì. Great. Search the content of your inventory and look for the nitron fuel. Nitron fuel. Click on its icon to automatically equip the refuel tool and load it with nitron. Ah, ok. Ok. Che cacchio è che ho preso in mano adesso? Mi sto incasinando perché... Ehm... Mannaggia. Ehm... Allora, vediamo un attimo. Dove siamo? Noi siamo qua. Dobbiamo trovare un... Dobbiamo trovare un... Un tile non preso da altra gente. Quindi... Direi che... Nitron fuel. Vediamo un po'. Eh... Vediamo... Scriviamo. Nitron... Fuel. Doppio clic. Eh, ho capito, ma lo speeder non me l'ha posizionato perché è un terreno di un'altra persona. Eh, quindi dobbiamo muoverci. Dobbiamo uscire da questi tile e andare da un'altra parte. Quindi, vediamo un attimo quanto ci manca. Eh, ma è grandissimo la zona qua, mannaggia. Eh, è enorme la zona. Non possiamo posizionare lo speeder. Dove cacchio è? Adesso, vabbè, so distinguerlo, quindi... Ah, non me lo fa... Non me lo fa mettere. Magari su qua? Su lì? Posso metterlo? Potevo metterlo su là in cima, ma io sono saltato giù come un pirla. Quindi, magari lo... Ah, uno. Ah, vestul. No, non mi interessa. No, volevo posizionare il coso lì, ma... Uh, qua c'è anche l'acqua. C'è lo meno bello. Insomma, dovremmo vedere anche il pianeta, che il pianeta dovrebbe essere quello da dove arriviamo. Vediamo se riusciamo a posizionarci qua sopra. Deploy your sanctuary unit, territory unit. No, dobbiamo andare a posizionare il nostro territorio, ma dobbiamo muoverci fuori dalla zona iniziale, perché sembra esserci un sacco di persone. E tra l'altro l'esagono è enorme, quindi... Quindi... Spazio ce ne sarà. Calcolando che su questa luna possiamo avere solo un territorio. Quindi, adesso andiamo a vedere. Mannaggia. Adesso... Vediamo se riusciamo di spiegare il nostro tutorial qua. E il nostro speeder qui. Che è un territorio... E se no provo anche a chiedere aiuto. Pending operation? Adesso... Adesso, scusate, ma... Invio... Support... How can I deploy spader? Vediamo se mi rispondono. Cioè, perché io ce l'ho qui. Se ci clicco, equip. Claim item. Eh, sì. Deploy. Ma non me lo fa fare. Inspect item. Atmosferic... Ah, ma mi servono tutti questi cosi da costruire. Atmosferic engine. Selector sip. Eh, no. Devo costruirlo. Ma io non ce l'ho tutta sta roba. Niente. Dobbiamo andare in un territorio nostro. Cioè, in un territorio costruibile. E... E prenderlo. Quindi... Direi che dobbiamo fare diversi passi in una direzione. Non so dove. Onestamente. Non sapere dove andare. Andiamo magari in questa direzione qui. Ci ritroviamo tra poco. Quando avremo finito la cavalcata. Mentre stiamo andando a cercare un territorio libero. Per provare a finalmente a spawnare questo maledetto spader. Devo fare una lunga camminata. Non so se per via dei bug o della mia inettitudine. Appunto non sono riuscito a dispiegare il mio spader. Quindi me ne sto camminando. E passando qua in mezzo. Vediamo che qualcuno lì ha messo il... Sentry... Quello che clima, diciamo, l'esagono. Usando il tasto V poi si vedono i limiti. E sono qui nella casa di sto tizio. Così vediamo un attimino che cosa sta facendo lui. Qua sta già facendo tutto. Tutta la sua casa. E qua fuori dovrebbe esserci anche una nave. O comunque un prototipo di nave. Almeno lo vedo dalla mappa. Tengo attivo questo così capisco di andare nella direzione giusta. Anche se la mappa dovrebbe già essere abbastanza chiara. Dovrò camminare una vita. Però vediamo. Vediamo se c'è una sua navetta. Eccola lì. E questo qua sarà la nostra fortezza. La nostra casa. Poi quando riusciremo a claimare un territorio è tutto per noi. E devo camminare molto. Quindi devo attraversare tanti esagoni. Ecco questa qua è la sua nave. Dovrebbe essere... Non so se è uno speeder o una nave grossa. No credo sia... È uno speeder questo. Sì. Sì sì sì. È uno speeder. Voglio andare... Vedete adesso io ho fatto... Un po' di... Ho sbagliato la direzione. Dovrei andare di là. Quindi dovrò camminare ancora un bel po'. Quindi passare anche attraverso la foresta. Quindi ci ritroviamo tra poco. 45 minuti dopo di camminata siamo forse arrivati in un... In uno spot libero. Da quello che ho avuto modo di notare leggendo la chat hanno tantissimi problemi con appunto gli speeder invisibili. C'è chi ha perso la nave del tutto. E credo di essere tra quelli. Ora siamo in un corridoio libero. Quindi qua possiamo andare a provare a... Di spiegare questo. Ok. Il territorio di Indy. E... Sì. Deploy. Ok. Questo qua diventa ufficialmente il nostro territorio. Fantastico. Sono enormi gli esagoni. Sei un orgoglioso possessore di un territorio sulla Sanctuary Moon. Sblocca la possibilità di minare. Infatti sugli altri non si poteva minare. Infatti qua possiamo andare a fare il mining. E fare un po' di terraforming. Posso disattivare questo adesso. Anche se in realtà non so se mi sta minando o meno. Eh... Ok. Adesso sì. Prima stavo distruggendo per andare sottoterra. Quindi dovremmo fare un lato magari minerario. Stiamo raccogliendo un po' di materiali. Vabbè. Questo qua comunque è il nostro territorio. La nostra casa. Il nostro... La nostra zona. My territory. Ehm... Ora... Ehm... Avendo il territorio possiamo provare a dispiegare... Questo. Però non funziona. Purtroppo non funziona. Ehm... Mi sa che ci ho rinunciato prima. E purtroppo l'ho perso per... Per sempre. Eh... Però dicevano di andare in logout. Vediamo. Se andando in logout e facendo... Eh... Così vediamo anche i tempi di caricamento. Queste sono le cose che arriveranno a breve. E sono tante. Poi se volete in caso bloccate... Tornate indietro e bloccate la schermata. Mannaggia ho sbagliato. Non dovevo andare... Non dovevo rientrare in gioco. Però proviamo a slogare e rilogare. Vediamo. Il caricamento dovrebbe essere un po' più veloce di quello che è stato prima. Perché è durato tipo 5 minuti. La prima volta che ho avviato il gioco. Vediamo adesso se è un po' più rapido. Allora. Abbiamo visto diverse cose. Abbiamo nel primo episodio visto il tutorial. La seconda abbiamo incontrato... Ho iniziato a incontrare i primi bug. Però vabbè. Ci hanno riportato qua nel territorio nostro. Vediamo se si è risolto... Problema... Eccolo qua. Infatti abbiamo risolto il problema. Perché non me lo fa piazzare? Dovevo trovare un territorio piano. O non ho i materiali? Eh no. Mannaggia. Ah ok. Ok. Niente. Non possiamo farlo perché... Inspect Item... Ci servono diversi materiali. Quindi... Ci serviranno un po' di materiali. E niente. Purtroppo adesso funzionava. Ma non possiamo farlo. Perché non abbiamo abbastanza materiali. Quindi niente. Sarà da studiarci dietro. Selector e Sip. Però in realtà... Prima mi erano anche usciti... Intanto... Eh niente. Niente. Mi sa che dovrò rifare il personaggio. Se è possibile. Ma non credo. Non credo sarà possibile. Allora. Che dire. Il gioco è senz'altro buggato. Perché è appena uscito dall'alpha. Ed è in beta. Il gioco è senz'altro promettente. Sarà da vedere come lo porteranno avanti nelle prossime mesi, settimane, anni. Il gioco, come hanno detto loro, è da quello che ho capito la sottoscrizione. Sette euro al mese. Non è tantissimo. Semplicemente perché loro dicono è un gioco che verrà supportato costantemente. E sarà live per i prossimi anni. Per i futuri anni. Quindi parleremo di un mondo persistente con strutture di giocatori. Basti vedere che ora io ho preso questo... L'unico che posso prendere sul pianeta. Quelli rossi sono già quelli occupati. Quindi pensate voi che c'è gente che è già andata a prendersi la zona qui. Dove presumo ci sia acqua. E la scelta di... Questo è un insediamento invece del gioco. La scelta ci comunque ci darà il via a una costruzione di un imperio economico piuttosto che di una base pirata. Il gioco sembra articolatissimo, complesso. Unisce quello che è Space Engineer, per quanto riguarda credo la fisica ma non abbiamo ancora avuto modo di provare nulla, a un Imperium per quanto riguarda la costruzione di basi. Però in un unico server insieme ad altra gente. Quindi qua è d'obbligo la cooperazione. Spero ci saranno in futuro anche italiani. Mi sembra onestamente più concreto, nonostante i bug, più realista di qualche altro titolo, che non pronuncerò perché ormai sembra essere all'ordine del giorno la contestazione riguardo a criticare o meno un gioco, o piuttosto che l'altro. Dual Universe mi è piaciuto, va migliorato molto a livello di ottimizzazione, i bug li ho incontrati anch'io, mi piace molto, ribadisco, quindi attendo copiosi i vostri commenti qua sotto. Non dimenticate di condividere il video, non l'ho mai chiesto, lo chiedo poco, ma questo è un gioco che ha bisogno di italiani, ha bisogno di cooperazione, e cooperazione e italiani spesso non vanno d'accordo. Vi rimando ai prossimi video, commenti qua sotto come al solito, e ciao ciao!